Anche la stampa nazionale comincia a trattare il tema della regione Salento. Dopo gli articoli apparsi su affariitaliani.it, il quotidiano comunista Il Manifesto dedica un'intera pagina al progetto per raggiungere l'autonomia delle province di Lecce, Brindisi e Taranto dall'arresto della Puglia. Un progetto del quale il quotidiano ripercorre le tappe storiche a partire dalla terra d'Otranto passando per il fascismo e il secondo dopoguerra. Fabreccia quindi a sinistra o all'estrema sinistra la rinascita del sentimento popolare autonomista che da sinistra è visto da diverse angolature e che anche a sinistra come a destra vede favorevoli e contrari alla nuova regione. Nel panorama politico erede di quello che una volta era il partito comunista italiano si possono così registrare le posizioni del governatore Vendola che ha bocciato senza mezzi termini la regione Salento e del consigliere regionale dello stesso partito di Vendola, Sinistra Ecologia e Libertà, Toni Matarrelli che nella regione Salento ci crede così come pure convinto della reale necessità di riequilibrare le risorse economiche in una regione non sempre attenta alle periferie. Periferie che vorrebbero diventare nuovo centro come dichiara Paolo Pagliaro il presidente del movimento regione Salento proprio al manifesto. Secondo Pagliaro non esiste il pericolo che la nuova regione sia l'ultima d'Italia. Da sud spiega sarà la prima regione del bacino del Mediterraneo, la frontiera con i nuovi mercati dei Balcani. Abbiamo le infrastrutture potenziali su entrambe le coste con porti e aeroporti da rendere competitivi. Dobbiamo solo riempire di contenuti un progetto già pronto, un progetto definito in passato riformista contro ogni forma di conservatorismo. A sinistra c'è anche rifondazione comunista ad esprimere il suo secco no al progetto autonomista visto come uno slogan da tifoseria. È stato nei giorni scorsi il responsabile cittadino leccese Alessandro Persano e poi c'è l'Italia dei valori di Di Pietro che la pensa in tutt'altro modo, stando alle dichiarazioni dei responsabili provinciali di Brindisi a Lecce, Lorenzo Caiolo e Francesco D'Agata e del consigliere regionale Aurelio Gianfreda che spingono molto sul nuovo ente e chiedono il referendum in tempi rapidi. Insomma se il dibattito e il sale della democrazia di sale nella futura eventuale regione Salento non dovrebbe mancarne e non solo Marino.